Che piacere premiare dei ragazzi, ragazzi giovani che avranno un futuro assicurato anche grazie al Pio Sodalizio dei Piceni. Molto dipende da quello che sapranno fare. Molto di quello che loro faranno sarà stato stimolato e questo è il dovere di una fondazione scolastica, quello di stimolare e dare impulso. Poi devono imparare a camminare sulle loro gambe. I marchigiani di solito lo sanno fare. È senz'altro una bella soddisfazione anche per una signora come lei? Certo, è una soddisfazione anche perché ho avuto modo già l'anno scorso di premiare una ragazza che si impegna moltissimo nell'ambito dei suoi studi, della sua specialità. E anche quest'anno ho potuto premiare una ragazza che è proprio all'inizio e spero che faccia strada nella sua professione perché sono degli impulsi molto potenti. E forse dipende anche un po' da noi perché noi possiamo anche seguirli questi ragazzi. Infatti la ragazza dell'anno scorso mi ha scritto delle mail, ci siamo sentite, lei stava all'estero, ci siamo parlate per email e quindi seguire non solo è una soddisfazione ma a questo punto diventa proprio un dovere morale. Grazie.